Grazie per il premio che avete dato ai reporter perché sappiamo che è un premio vero e che arriva dalla rete, da parte mia di Angelo Cimarosti ma anche di Stefano De Nicolo. Mi ha appena detto Angelo della grande bella notizia, io come vedete sono qui a Taranto per i blocchi dell'ILVA, davvero una grande grazie a tutti. L'ILVA è una metafora del lavoro del nostro paese per quello che non siamo riusciti a ritirare il premio, grazie anche da parte di Luca Bauccio e Alessandro Koscia che sono gli altri due cofondatori e dai 40.000 citizen journalist che raccontano l'Italia ogni giorno perché per il giornalismo partecipativo e questo premio lo dimostra c'è ancora molto spazio in questo paese. Ciao.